rieccoci qua ragazzi finalmente a parlare di formula 1 guardate ormai sono passati mesi e infatti mi sembrava se hanno detto qua la bandana non la trovo più dov'è e invece alla fine ce l'ho fatta ragazzi l'ho ritrovata e quindi posso ricominciare a parlare della ferrari ebbene si perchè oggi è il 13 febbraio giorno in cui c'è stata anche la presentazione della nuova sf24 ovvero la ferrari di questa nuova stagione di questo mondiale che speriamo ecco di giocarcelo più dell'anno scorso perchè adesso io parto già con le mani basse non come molti che dicono ogni anno e noi adesso vinciamo il mondiale quando non è assolutamente vero perchè in una stagione o all'altra è difficile vedere miglioramenti stratosferici ecco può succedere ma potete stare tranquilli che alla ferrari non succederà mai detto questo ragazzi allora io un po' come tutti i tifosi della ferrari oggi ho seguito sul canale youtube di sky sport appunto la presentazione non l'ho seguita tutta quindi vi dico già perchè avevo anche altre cose da fare però mi è bastato un po' per capire quello che mi interessa veramente e poi perchè se voi mi guardate non è per sapere le parti tecniche della ferrari perchè andate da uno che ne sa andate da un canale tecnico e la potete imparare o guardare ogni minimo dettaglio della vettura che è cambiato rispetto all'anno prima eccetera eccetera ovviamente io alla fine come tutti voi so per sentito dire quindi metto già questo in chiaro è che ormai un po' di esperienza la sto accumulando quindi vi posso già dire che molte cose che vengono dette a riguardo la ferrari sono bugie ragazzi perchè ogni anno anche i piloti se vedete anche quando parlano sono sempre pacati sembra quasi che ci sia qualcuno dietro che gli dice cosa dire per carità non si vogliono sbilanciare più di tanto ma ci mancherebbe lo farei anch'io però a volte ragazzi mi sembra troppo che sono tutte delle marionette messe là per parlare anche aver visto in passato con Binotto dicevano delle robe senza senso che dite ma com'è possibile che loro pensano veramente certe cose infatti non è così ragazzi allora quello che vi voglio dire è che sicuramente abbiamo migliorato qualcosa sono contento più che altro perchè non abbiamo fatto una rivoluzione non abbiamo stravolto tanto a differenza di altre scuderie che diciamo fanno un'estremizzazione da un anno all'altro e si parla di rendere vecchie le vetture prime ragazzi mi fa piacere che la Ferrari invece è più stata fedele all'anno scorso diciamo che non ha fatto chissà che vettura con concetti nuovi ha stravolto tutto e meno male anche perchè vuol dire che in testa hai un minimo di pensiero che appunto quello che stavi facendo andava bene che puoi migliorare la vettura senza stravolgere tutto perchè quando tu stravolgi tutto rivoluzioni tutto è tutta un'incognita dopo non è detto che fai bene magari fai la stagione del secolo perchè hai appunto attuato qualcosa di nuovo che ti fa andare il doppio per dire no però la maggior parte delle volte non si realizza tutto ciò la maggior parte delle volte sei stato stupido perchè? perchè se l'anno prima andavi in un verso in una direzione l'anno dopo che non cambiano nemmeno i regolamenti eccetera eccetera tu cambi tutto vuol dire che diciamo che non credi nel tuo progetto noi abbiamo creduto al progetto che stavamo facendo quindi vuol dire che c'è margine di miglioramento che appunto siamo focus su il nostro lavoro e nulla ci può distrarre noi sappiamo cosa dobbiamo fare e lavoriamo su quello che stavamo già lavorando quindi ci saranno stati dei miglioramenti si parla anche di una vettura di tot decimi più veloci ma quello ce ne dirà la pista se saremo competitivi non ve lo devo dire io ma non lo sanno nemmeno i meccanici è la pista che vedrà ma neanche tanto i test perchè là non si vede bene dal primo gran premio si potrà capire ecco chi potrebbe fare cosa anche se io spero che la Ferrari sia competitiva per il mondiale quest'anno però probabilmente non lo sarà ecco comunque mi auguro almeno che sia dai primi tre insomma e speriamo comunque di vedere una bella formula 1 in generale con tante scuderie che se la giocano a darmi pari quindi non vedere come qualche anno fa ad esempio l'AS che era diciamo una monoposto di categoria inferiore alla formula 1 quindi ecco speriamo questo non accada però ritornando alla Ferrari i colori i design eccetera eccetera ragazzi si è tutto bello ma non dobbiamo esaltarci per nulla capite comunque la vettura è bella ogni anno si modifica qualcosa e ogni anno bisogna crederci però mi fa piacere che stanno ragionando bene e stanno diciamo continuando quella che era il pensiero che avevano che avevano sposato già l'anno scorso quindi non rivoluzionare tutto di nuovo che dopo molto probabilmente non porta a nulla infatti abbiamo visto la Mercedes in passato cosa ha fatto ha stravolto tutto e dicevano già è finita la Mercedes adesso stravincerà perché è nata più avanti futuristica rispetto agli altri e invece dopo un po' con il problema del poor poising hanno dovuto addirittura cambiare vettura hanno dovuto ritornare indietro sui propri passi e tornare a qualche anno diciamo ecco come dicevano loro in meno quindi senza fare tutto perché vogliono fare i sapentoni e stravolgere tutto rendere tutto più futuristico ci sta comunque per qualche ragione magari non vai tanto forte nella stagione precedente adesso provi il colpaccio quindi o la va o la spacca e quindi ci sta quindi anche la Mercedes ci avrà provato anche per quello ma la maggior parte delle volte non funziona io sono contento che la Ferrari questo errore non lo abbia fatto vedremo che accadrà e poi parlerò tranquilli anche di Hamilton o la Ferrari ma in questa stagione dobbiamo concentrarci con i piloti che abbiamo e il primo pilota ormai è deciso che a Leclerc detto questo ragazzi vi saluto vi ringrazio e sono contento che finalmente è tornata la Formula 1 da Macacune è tutto arrivederci e sempre a forza Ferrari